buonasera a tutti benvenuti in un nuovissimo video bentornati nel canale oggi siamo qui per parlare di errori di stile e come rimediarli sono errori di stile che tutti facciamo io compresa a volte me ne rendo conto a volte me ne rendo conto un po meno quindi ho cercato un pochino di analizzare appunto tutti quali sono i vari punti e ve ne parlo ora se vi va come sempre mi raccomando iscrivetevi al canale alla fine del video lasciate un commento un mi piace e fatemi sapere magari anche se avete delle domande delle richieste per quanto riguarda anche i capi che indosso andiamo subito a vedere i dieci punti del video primo punto non pulire le scarpe prima di riporle mi chiedete spesso come faccia ad avere le scarpe sempre così belle e pulite il motivo è semplicemente uno ed è quello che io ogni volta che torno a casa che sia magari la sera che se magari il giorno dopo prima di riporre le scarpe nel loro spazio io le pulisco utilizzo delle semplici salviettine per pulire le scarpe prima passo tutta la parte sopra della scarpa e poi passo alla parte sotto della suola ebbene sì io pulisco anche la suola perché non mi va di inserire all'interno dell'armadio delle scarpe che insomma hanno calpestato l'esterno della mia casa ecco per così dire per una questione anche di igiene in più se le scarpe vengono trattate così avrete sempre delle belle scarpe a disposizione in un outfit avere una scarpa che è bella pulita e avere una scarpa sporca può veramente fare la differenza punto numero 2 non indossare i capi più carini per paura che si rovinino questo è un errore che faccio anch'io e che faccio anche ad oggi da un orrore su cui bisogna lavorarci un pochino perché è più che altro un errore mentale e però qui rischiamo insomma veramente di acquistare dei capi che ci stanno bene dei capi che ci fanno sentire a nostro agio e che ci piacciono e poi di lasciarli nell'armadio per paura appunto che si usurino non dobbiamo avere questa mentalità perché altrimenti veramente oltre a buttare i soldi in capi che poi non useremo mai ci sarà anche poi il problema di continuare ad utilizzare sempre gli stessi capi quindi ok alla manutenzione dei capi bisogna sempre fare attenzione cercare di trattarli nel miglior modo possibile però i capi devono essere utilizzati i capi che acquistiamo devono avere uno scopo non possono essere acquistati solamente perché sono belli e rimanere nell'armadio per paura di utilizzarli punto numero 3 che un pochino si collega al punto di prima è quello di lavare sempre i capi più delicati a mano per paura che si rovinino qui l'ostacolo potrebbe essere proprio questo e portarvi poi al punto di prima quindi a non indossare quei determinati capi per paura magari di rovinarli in lavatrice il lavaggio a mano è comunque una cosa meno veloce rispetto al lavaggio in lavatrice perché ci deve essere un ammollo perché c'è tutta una procedura diversa che è sicuramente più macchinosa e più lunga e io vi dico qui non fatevi troppi problemi perché le lavatrici di oggi hanno dei lavaggi che veramente sono super super delicati dei lavaggi a 30 gradi l'importante è lavare sempre con un lavaggio con un'acqua che sia tiepida quindi che non sia un acqua troppo calda e soprattutto anche utilizzare una centrifuga bassa perché ricordiamoci che le lavatrici hanno delle centrifughe veramente alte 1200 1400 giri sono tantissimi già mille giri sono troppi per non rovinare le cose utilizzate sempre una centrifuga bassa soprattutto per quei capi che magari sono seta lana cashmere capi di lino capi di un cotone un pochino più pregiato e particolare bisogna fare un po di attenzione ma vi garantisco che utilizzando dei lavaggi del genere super delicati non avrete problemi ed avrete soprattutto un risparmio di tempo e di energie non da poco punto numero 4 buttare soldi investiti da cerimonia vestiti che poi non utilizzeremo più questo è un errore che ho fatto anch'io nel corso degli anni perché magari acquistavo dei vestiti che utilizzavo si magari per una due cerimonie però sono vestiti talmente particolari che poi non si possono più utilizzare non dico per la vita di tutti i giorni perché sicuramente sono dei capi super eleganti ma non si possono poi utilizzare neanche nelle occasioni un pochino più formali perché sono veramente capi che vanno bene solo ed esclusivamente per determinate cerimonie quindi il mio consiglio qui è di puntare su alcuni capi di qualità che si possono utilizzare sia nella vita di tutti i giorni sia per le cerimonie soprattutto se magari siamo invitati così amici ecco che non siamo degli invitati super speciali come possono essere i testimoni di nozze vi ho fatto un video in merito proprio questo argomento ve lo lascio linkato qui sopra se vi va andatelo a vedere punto numero 5 indossare un capo che non ci fa sentire a nostro agio e per quel che mi riguarda sono i capi super stretti quelli che magari ci stanno giusti giusti perché magari abbiamo buttato su qualche chilo e li teniamo lì sempre con la speranza di dimagrire questo è un errore per che poi le cose si vanno ad accumulare a me capita poi che magari quel determinato capo quando vado a dimagrire non lo utilizzo più qui io vi consiglio di vendere i vostri capi su vinted perché insomma potete guadagnarci qualcosina potete fare felice una una persona che acquista appunto i vostri capi oppure potete anche regalarli dipende insomma dai capi dipende molto da voi però non c'è nulla di peggio per quel che mi riguarda per lo stile di avere addosso un capo che non mi fa sentire a mio agio che mi fa sentire magari impacciata perché mi sento troppo rigida troppo stretta troppo strizzata non c'è nulla nulla di peggio questo è un punto di cui vi avevo già parlato sicuramente nel passato un altro punto è quello di trascurare tutti quei capi che sono basic e di dare poco conto ai capi basici che sono il capo saldo del nostro guardaroba perché sono quei capi che ci aiutano veramente tanto a creare outfit in modo semplice e veloce e soprattutto sono dei capi che funzionano bene un errore a pensare che i capi basic siano semplicemente magari le t shirt ma vi assicuro che ci sono tantissimi capi basic e anzi se ne avete voglia se vi fa piacere posso farvi un video in merito con i vari capi basic un capo basic per me è anche la camicia in jeans e la camicia in jeans è un capo che sta benissimo con tanti tanti con tanti tanti altri capi che si mixa bene che può essere aggiustato in diversi modi indossato con diversi stili quindi non abbiamo solo quelle che sono le t shirt o la camicia bianca ma ci sono tanti tanti altri capi basic che possiamo tenere all'interno del nostro armadio che sono super super utili un altro errore è quello sicuramente di trascurare il nostro aspetto sia per quanto riguarda l'abbigliamento per quanto riguarda il make up le mani la nostra skin care che è molto molto importante e così via questo perché a volte capita anche a me non è una cosa che capita solo alle altre persone io in primis che amo insomma vestirmi bene che mi piace e che cerco di essere sempre in ordine cado purtroppo in questo errore a volte perché mi alzo al mattino e magari ho una mattinata davanti al computer quindi mi metto una tutona e resto tutto il giorno con la tutona e i capelli un pochino così raccolti un pochino all'aria non sistemati troppo bene a volte perché le temperature esterne magari è tanto freddo e quindi non ci fa troppa voglia di vestirci bene tendiamo ad utilizzare capi che siano magari super caldi magari un po ampi per sentirci più a nostro agio e quindi questo è sicuramente un errore che può essere che può essere risolto diciamo così cercando ogni giorno di avere una buona skin care per avere un viso luminoso per avere una pelle idratata che già quello fa tanto anche se non ci trucchiamo cercare di pettinarci ogni giorno avere i capelli in ordine avere delle mani in ordine avere delle mani in ordine non vuol dire andare ogni mese a farsi lo smalto semi permanente basta anche semplicemente a casa avere un po cura di limare un pochino le unghie stare un pochino attenti alle pellicine insomma queste cose che non vuol dire dover andare dall'estetista e spendere soldi sono cose che possiamo tranquillamente curare anche noi in casa quindi fare un pochino di attenzione su queste cose e poi anche sull'abbigliamento a volte se non abbiamo voglia di vestirci cerchiamo di avere dei set magari dei set tipo tutte a casa che io stessa ne ho preso una l'anno scorso ne ho preso un anche quest'anno perché mi rendo conto che magari se al mattino devo stare davanti alla scrivania è meglio avere una tuta un pochino così carina che con un paio di sneakers e un capotto sopra posso indossare anche per portare christian a scuola ed essere sempre così un pochino in ordine altro errore è quello di rimanere sempre nella comfort zone ed indossare magari quello che è il nostro outfit outfit formula outfit divisa che ne so siamo abituati ad avere sempre quel paio di jeans magari quel paio di jeans di un blu scuro indossati magari sempre con la stessa t shirt e con lo stesso cardigan cerchiamo qui magari di cambiare un pochino optiamo magari per un paio di jeans dunco un colore diverso di un modello un pochino diverso invece del cardigan possiamo sostituire il cardigan con quello che può essere un blazer al posto della t shirt possiamo inserire una camicia oppure mettere una t shirt a maniche lunghe per stare più caldi ci sono diverse cose che si possono fare per migliorare il nostro look rimanendo sempre confortevoli sentendoci sempre a nostro agio cambiando anche i cappi la formula si rinnova si rinfresca e voi avrete uno stile che è comunque il vostro stile magari super basic ma è uno stile che è sempre rinfrescato e rinnovato altro errore indossare sempre la stessa borsa e mi rendo conto che per una questione di comodità si tende sempre ad avere la stessa borsa che cosa si può fare il consiglio che vi do io è semplicemente se non riuscite a cambiare borsa quindi ci sono persone che cambiano borsa io sono una di queste cioè a me piace io ogni volta che torno a casa svuoto la mia borsa ho un cassettino al cui interno svuoto la mia borsa quindi quello che può essere il portafoglio i fazzoletti un lucidalabbra insomma le cose che tengo all'interno della borsa le svuoto lì dentro e la volta dopo tiro fuori una borsa nuova e le rinfilo dentro tutto quello che mi serve oppure un'altra cosa è tenere una specie di sacchettino o un beauty case che sia però un beauty case magari in tessuto quindi piuttosto morbido che si adatta bene all'interno delle borse per tenere tutto lì e poi inserire il beauty all'interno della nostra borsa comunque questo sacchetto di stoffa io vi consiglio dei sacchetti grandi di stoffa vanno bene anche per dirvi le dust bag delle borse quelle che hanno la culisse che si stringono quelle vanno buonissimo potete infilarci lì dentro tutte le vostre cose chiudete la dust bag la infilate all'interno della borsa è una volta aperta avrete tutto lì dentro quindi questo è un buon modo per cambiare borsa l'ultimo errore di stile è quello di avere un guardaroba in disordine non c'è nulla di peggio di avere un guardaroba in disordine perché lo stile per quel che mi riguarda va a pari passo con l'ordine uno perché possiamo veramente avere una veduta a 360 gradi dei nostri capi se teniamo il nostro armadio in ordine due perché ci facilita le cose ci facilita le tempistiche avere un armadio in ordine magari ordinando per colore o magari ordinando per tipologia categorizzare il vostro armadio in modo da avere diverse categorie da cui poi prendere io in un posto le camicie in un altro posto dei pantaloni in un cassetto ai maglioni tutti quelli bianchi color panna beige in un altro cassetto ai maglioni tutti quelli neri o comunque con tonalità scure e così via insomma bene per oggi è tutto io spero tantissimo il video vi sia piaciuto e vi possa essere utile vi ringrazio tanto se siete arrivate fino a questo punto e come sempre se vi va lasciate un like e commentate qui sotto io vi bacio vi abbraccio e ci vediamo nel prossimo video ciao ciao